Amici di PlaySport, appassionati di palla nuoto, un cordiale buonasera dalla piscina dei Mosaici del Foro Italico, ventunesima giornata del campionato di Serie A2 maschile del Girone Sud, di fronte Roma-Visnova e Roma 2007, un derby tutto di marca giallo-rossa per il penultimo appuntamento di Regular Season, mentre il signor Bianchi e il signor Corelli, due direttori di questo match, hanno dato il via subito, con il primo starting conquistato dai padroni di casa della Roma-Visnova, dunque i Leoni in calotta bianca, con la squadra invece di Simone Mercadanti in calotta nera. Presentiamo rapidamente le formazioni nel bel mezzo di questa azione offensiva portata avanti dalla squadra di Bruno Cufino, che dal numero 1 al numero 13 schiera rispettivamente Vespa, Serrentino, Murro, Pappacena, Provenzale, Cusmano, Vitola, Innocenzi, Romiti, Martella, Spiezio, Manzo e Faiella. Vi sarete accorti, soprattutto i sostenitori della Roma-Visnova, si saranno accorti che la Roma-Visnova è tornata a ranghi completi dopo due recuperi lampo di Simone Pappacena e di Claudio Innocenzi, che si pensava fino a poche settimane fa avessero terminato la stagione in corrispondenza dei loro rispettivi infortuni capitati prima contro il Palermo e poi contro il Napoli qui al Foro Italico. Passiamo alla formazione di Simone Mercadanti, dicevamo oggi sostituito da Maurizio Gatto, in quanto il tecnico giallorosso è stato squalificato per un turno. Dal numero 1 al numero 13 la squadra della Roma 2007 scende in vasca con Giulio Rossi, Tulli, Piccinini, Dascoli, Sebastiano, Campana, Di Santo, Rella, Liolli, Alessandro Rossi, Fiorita, Tomasic e Letizzi. Do rapidamente il benvenuto a tutti i miei compagni di viaggio per questo ultimo appuntamento casalingo della Roma-Visnova. Saluto Pasquale Di Mattia di Sabato e Pallannuoto, buonasera Pasquale. Buonasera a te Gianluca, buonasera a tutti. Accanto a me c'è anche Pierluigi Grande di Passione Sporta che ci ha seguito in tante circostanze con la Roma-Visnova. Non solo, avremo modo di parlare anche del suo libro. Pierluigi, buonasera. Grazie, buonasera, ben ritrovati, con grande piacere. E abbiamo anche l'amico di Swim Beats, il sito più chiacchierato e più frequentato per quello che riguarda cloro e dintorni. Un buonasera anche a Gianluca Guarnieri, ciao Gianluca. Ciao Gianluca e buonasera a tutti quanti i telespettatori. Allora abbiamo accanto a noi anche il presidente giallorosso Marco Ferraro, proveremo a disturbarlo, che ci saluta da lontano, sappiamo che non vuole essere disturbato troppo, proveremo con il contagocce a chiedere ad interpellare il presidente della Roma-Visnova. Dunque, nel frattempo la partita sta proseguendo, siamo già quasi al secondo minuto di questo primo periodo. Io chiedo subito una riflessione su questa partita, Pasquale e Di Mattia. Ci sono tanti significati, una Roma-Visnova che è tornata praticamente a ranghi completi dopo i recuperi Lampo di Pappacena e di Innocenzi. Pasquale. Tanti temi, un derby anche cromatico, perché ambie due le squadre portano i colori sociali gialli e rossi. E io la defino la partita all'insegno della disperazione, perché alla Visnova occorrono due vittorie in queste ultime due gare, sperando in passi falsi del Palermo, e alla Roma 2007 con due vittorie parimenti per evitare l'ultimo posto che significherebbe retrocessione diretta in Serie B. L'esperazione sembrerebbe la parola d'ordine per questo match. E poi tutti i motivi intrinseci che porta dentro di sé una stracittadina. Sfugge questo pallone a manzo. Era stata tuttavia interrotta questa azione della Roma-Visnova che adesso si vede la controrisposta della squadra di Maurizio Gatto con Gabriele Letizzi che se ne va sul versante di sinistra, cerca l'appoggio e trova Tulli. Riceve adesso Piccinini. Ci prova quasi dalla linea dei 5 metri con 15 secondi ancora a disposizione. Queste prime indicazioni della Vasca, Pierluigi. Sì, sicuramente è una partita sentita da entrambe le squadre, però mi sembrano al meglio della condizione, almeno sotto l'aspetto mentale. E poi è sempre un derby, per cui ecco il primo gol. Bellissimo, bello a firmarlo. Provenzale, è uno dei giovani che... No, Provenzale è un esperto. Provenzale, diciamo, definiamolo un veterano, anche se è un acquisto di quest'anno che sta facendo molto bene tra l'altro. Allora, Enrico Provenzale sblocca il risultato. L'1-0 della Roma-Visnova che... a 5 minuti e 31, mi corregge Pasquale Di Mattia, dal termine di questo primo periodo. Dunque, brecca il risultato portandosi in vantaggio. Io volevo chiedere una riflessione anche a Gianluca Caparnieri in ottica classifica. Purtroppo abbiamo ricevuto già il finale da Palermo. Il Palermo ha vinto contro i muri antichi Catania per 17-15. Quindi a questo punto, pian piano, rischiamo di spegnere quelle poche speranze. È rimasta la Roma-Visnova di accedere a play-off, Gianluca. Guarda, Gianluca, il problema è che il Palermo può contare sugli scontri diretti a parità veramente di punti rispetto all'andata e ritorno. Però io credo che la squadra di Cufino deve pensare esclusivamente al derby di stasera e poi ci penserà in ottica futura nell'ultima giornata. Perché secondo me è sbagliato che la squadra pensi esclusivamente al problema del play-off in questo caso. Poi vedremo quello che accadrà. Comunque sia per la Roma-Visnova è stata una bella stagione. Questo è indiscutibile. Assolutamente condivisibile questa riflessione. Dobbiamo ricordare che l'ultimo appuntamento della regular season vedrà la Roma-Visnova impegnata contro la Rarinante Salerno in trasferta. Il Palermo invece ospiterà l'Anzio. Non si mettono benissimo le cose. Bisogna essere sinceri. Bisogna essere sinceri. Non bisogna... Vero Pasquale? Bisogna essere realisti ma dico sempre che farà bene il professor Cufino a non fare calcoli. Del resto i calcoli fanno male a questo sport. I ragazzi in Vasca tra l'altro non conoscono ancora il finale di Palermo. Giusto, come dicevamo un po' con tutti i nostri opinionisti questa sera, cercare di pensare esclusivamente al match. Mentre Francesco Maria Vitola dalla linea dei 5 metri e da posizione 2 infila la porta di Giulio Rossi. 2-0 per la Roma-Visnova. Pasquale? In un derby romano due reti non romane. Provenzale che è stato allievo di Cufino alla Peyton Bari sino all'anno scorso e Vitola che è campano che insieme a Cusmano formano l'unico terzetto credo di non romani nella Visnova. La partita si sta incanando bene a favore della Visnova. Chiaramente non bisognerà fare calcoli, bisognerà guardare a stasera innanzitutto e poi anche quello che avverrà nell'ultima tornata di gara. Il rischio beffa per la Visnova esiste perché potrebbe arrivare a pari punti col Tellimar Palermo ma esserne sopravvanzata a causa della cattiva situazione degli scontri diretti. Peraltro concretizzatasi con una doppia vittoria dei siciliani sia qui sia in terra palermitana. Torniamo in basca con Andrea Manzo, anzi Alessandro Faiella che conquista un bel pallone lo consegna velocemente a Lorenzo Vespa sulla sinistra indirizzato e recapitato il pallone ad Enrico Provenzale si avvicina alla linea dei cinque il semicerchio della Roma Visnova ma Provenzale decide di tirare a schizzo 3-0 doppietta di Enrico Provenzale Roma Visnova che è partita subito aggressiva Pierluigi Sì sì bene bene benissimo sicuramente la dimostrazione è anche una buona preparazione atletica insomma siamo a fine stagione abbiamo visto veramente un inizio strabiliante sotto l'aspetto del vigore fisico dicevo tra l'altro è molto importante prima parlavate del campionato della Roma Visnova beh va sottolineato insomma che in squadra avete sempre quelle 3-4 pedine di giovani promettenti e questo è un fioralocchiello della società appunto condotta dall'avvocato Marco Ferraro perché sui giovani voi avete sempre puntato tantissimo insomma questo vi fa onore perché è sempre una grande Serie A è una Serie A che porta il nome della capitale assolutamente sì assolutamente sì 3-34 al termine di questo primo periodo la visse avanti di 3 reti a 0 contro la Roma 2007 Vitola che gli viene che si vede ricevere il pallone da Lorenzo Vespa avanza con 14 secondi ancora a disposizione ancora Vitola vicino a lui c'è Martella ha servito la combinazione tra i due 6 secondi per portare a termine questa azione con Andrea Manzo è sceso in vasca Valerio Spiezio tra l'altro Pappacena ed Innocenzi sono ancora seduti in panca abbiamo visto Pappacena disputare qualche scampolo dei primi secondi di gara poi insomma mister Cufino voleva capire un attimo Pasquale se e come impiegarli se e come si metteva questa partita probabilmente sì anche per fargli riprendere il ritmo partita del resto Pappacena e Innocenzi sono mancati quasi contemporaneamente e sono rientrati quasi contemporaneamente non è facile parlare con i se e con i ma rete di Tomasic eh già Tomasic riduce il passivo a 2.44 dal termine del primo periodo e allora quarta rete del match 3 a 1 Pasquale un detto toscano molto duro dice che mai sei sono il tesoro dei falliti probabilmente un detto esagerato però bisogna ammetterlo ha disputato le partite chiave con le dirette concorrenti con l'assenza di Pappacena e Innocenzi e forse sarebbe potuto essere tutta un'altra storia però ripeto con i se e con i ma non si possono costruire tante cose l'importante è che i risultati che vengano fuori nelle ultime partite non siano frutto di di calcoli o qualcosa di simile perché ripeto i calcoli di qualsiasi genere siano fanno male a questo sport dobbiamo ricordare abbraccio di quello che diceva Pasquale Di Mattia che per la Roma Visnova questo è stato un maggio maledetto vogliamo interpretarlo così alla sedicesima giornata di campionato la Roma Visnova era seconda in classifica a soli due punti dalla capolista Canottieri Napoli poi ci troviamo con subito dopo gli infortuni capitati a Simone Pappacena e a Claudio Innocenzi con una Roma Visnova che ha iniziato a rotolare a perdere posizioni nella graduatoria del Girone Sud finendo dove è finita al quarto posto con questo piazzamento in condominio con il Palermo che purtroppo in virtù degli scontri diretti vedrebbe la Roma Visnova non poter staccare il biglietto per questi playoff espulsione temporanea con Valerio Spezio che se ne va nel pozzetto uomo in più per la Roma 2007 dialoga finalizzata la rete crediamo da capitano ai Sebastiani e Sebastiani che mette a segno la rete della Roma 2007 3-2 dunque 1,50 al termine dicevamo di questi infortuni che purtroppo hanno fatto precipitare un po' nell'otto dei quattro piazzamenti playoff la squadra di Bruno Cufino sfortunata sicuramente e che rischia di vedere vanificato il lavoro comunque è una stagione che non sarà sicuramente macchiata per quanto di buono è stato fatto fino a questo momento ma macchiata nelle prestazioni macchiata nel nel grande lavoro purtroppo invece se le cose finiranno così sarà macchiata da semplicemente dai numeri dai numeri che non potranno consentire che non potrebbero consentire alla squadra di Bruno Cufino di di staccare il biglietto per i playoff perde il pallone la squadra di Bruno Cufino con Giulio Rossi che si prende la sfera 23 secondi sono già trascorsi i sette dallo scattare dei 30 servito sulla sinistra Tomasic ecco Sebastiani che lotta proprio con Andrea Manzo vicino alla linea dei 5 metri si prosegue il pallone gira 9 secondi per la Roma 2007 l'uscita di Lorenzo l'uscita di Lorenzo Vespa bravo Lollo 57 secondi al termine di questo primo tempo con il portiere giallorosso che apre nuovamente sulla destra c'è Manzo leggermente avanti il pallone recuperato subito chiama e ottiene la sfera Edoardo Martella 13 secondi per la Roma Visnova ecco servito ancora Andrea Manzo davanti a lui c'è Raffaele Cusmano 5 secondi 4 che cosa si è inventato Ciccio Martella 4 a 2 c'è stato è vero un disimpegno non esemplare eh di Giulio Rossi però insomma Martella ci ha provato Pasquale ha avuto il merito di provarci e di trovare la rete ci può essere magari un concorso di colpe Rossi è stato un po' leggero nel disimpegno ma tanto di cappello davanti all'inclusione di Martella che ha stoppato anche il break del degli altri giallorossi basta pensare che il 3 a 1 e il 3 a 2 sono arrivati a distanza di 54 secondi quindi in meno di un minuto gli uomini di Maurizio Gatto erano arrivati a almeno uno ma Martella li ha riportati a meno due ultimi 25 di questo primo periodo nello sport bisogna sempre provarci Pierluigi vero? sì 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 fino all'ultimo secondo fino a tempo scaduto quasi no? io colgo l'occasione anche per un saluto pubblico a Pasquale Di Mattia una delle encicopletie più importanti della storia della palla a nuoto comunque sì dicevi sempre e soprattutto nella palla a nuoto almeno l'esperienza che ho avuto io veramente non si può dire nulla fino all'ultimo secondo di ogni tempo fermo restando che mi sembra una partita alla portata della squadra di Bruno Cofino assolutamente per chiudere 10 secondi di Gianluca Guarnieri e poi ci ricolleghiamo con il secondo tempo in questa partita no supremazia piuttosto netta della Visnova contro una buona Roma 2007 comunque l'importante è sperarci sempre io mi auguro che la squadra di Cofino speri fino all'ultimo e non molli a tra poco eccoci tornati collegati con la piscina dei mosaici del foro italico 4 a 2 risultato che ci consegna il tabellone per questo primo parziale una Roma-Visnova che è partita in quarta subito 1-2-3 le reti di Provenzale la doppietta di Provenzale e la marcatura di Vitola poi la squadra della Roma 2007 che ha ridotto leggermente il passivo mettendo a segno prima la rete con Tomasic e poi con Sebastiani arrivando sul 3 a 2 il 4 a 2 definitivo è arrivato con una bella invenzione quasi da centro vasca di Edoardo Martella la complicità di un disimpegno perfezionato non al meglio dall'estremo difensore della Roma 2007 Giulio Rossi e dunque il 4 a 2 che ci consegna al momento il tabellone prima dell'inizio di questo secondo periodo una Roma 2007 che ha conquistato il secondo starting anche se perde il pallone in questa circostanza in virtù di un fallo in attacco e Lorenzo Vespa che si appresta ad aprire sulla destra proprio per Claudio Innocenzi che fa ufficialmente il suo ritorno a distanza di 4 settimane dopo il colpo ricevuto da un giocatore della Canottieri Napoli che gli ha creato dei seri problemi al timpano e che l'ha tenuto lontano come abbiamo detto in apertura di collegamento dalla vasca e dal cloro in questo periodo maledetto allora Raffaele Cusmano e io poi lascerò dire qualcosa di Raffaele Cusmano a Pasquale Di Mattia cresciuto tantissimo grazie anche alla grande esperienza di Bruno Cufino che ha saputo valorizzare il giocatore siciliano e farlo diventare finora uno dei giocatori più interessanti di questo finale di stagione il Mancino sta veramente distinguendosi in queste ultime settimane intanto proseguono le reti non romane della Visnova Cusmano vorrebbe essere il Mancino del presente ma anche del futuro è un ruolo importante è un ruolo delicato e la Visnova lo sta coprendo nel migliore dei modi è un giocatore giovanissimo lo ricordiamo anche per la sua quaterna contro l'Ansio nell'incontro pareggiato 8 a 8 nell'impianto Anziate è un giocatore con il tempo dalla sua parte non è abile solo in fase realizzativa ma anche in fase di impostazione in fase difensiva è un Mancino completo e l'anagrafe è dalla sua parte Letizzi Di Santo è bella la girata di Tomasic ma altrettanto la risposta di Lorenzo Vespa che nega la rete al numero 12 della Roma 2007 subito la controrisposta della Roma Visnova che si affaccia con Claudio Innocenzi e prova a servire Valerio Spiezio combattuto in zona centro Boa con Di Santo la spuntata della Roma 2007 Capitan Piccinini che prova subito a reimpostare quest'azione per la squadra di Maurizio Gatto ecco servito Tulli adesso che può avanzare su di lui ci va lo stesso Spiezio 14 secondi per portare a termine quest'azione con Tomasic la lotta con Vitola fallo contro subito pallone per Lorenzo Vespa a sinistra c'è Murro riceve però ancora Capitan Innocenzi largo davanti a lui Provenzale 20 secondi per la Vis si allunga riesce a darpionare il pallone Spiezio a girarla c'è il tocco però di Giulio Rossi quindi tiro d'angolo tutto può proseguire sono già trascorsi praticamente i primi due minuti di questo secondo periodo e la Roma Visnova che può riaffacciarsi nuovamente con una opportunità Simone Pappacena sceso insieme a Claudio Innocenzi c'è un'espulsione temporanea dovrebbe essere proprio Capitan Piccinini spedito nel pozzetto dal signor Corelli prosegue quest'azione della Roma Visnova Pappacena il dialogo con Provenzale Innocenzi ancora Simone Pappacena tripletta di Enrico Provenzale 7-2 2-0 per la Vis in questo secondo periodo l'aggregate naturalmente è sul 7-2 se non vado errato o se non hanno aggiornato 4-2-2-0 è 6-2 è 6-2 ok bene bene così Pasquale Tripletta di Provenzale prima rete della Roma Visnova con l'uomo in più e stavolta anche stavolta Provenzale ha segnato dalla sua posizione istituzionale dalla posizione 2 credo sia il massimo vantaggio per la Roma Visnova che ha avuto un massimo di 3-0 invece ha dilatato il vantaggio a più 4 da notare la presenza sulla banchina della Roma di Maurizio Gatto fratello di Roberto che ha un doppio ex al quale per il mio saluto che Roberto Gatto ha indossato sia la calottina della Roma Visnova sia la Roma 2007 fino all'anno scorso attenzione perché c'è Tulli in zona 1 10 secondi per la Roma 2007 pallone consegnato a Capitan Piccinini prova la palomba nessun problema Pierluigi più 4 sì sì più 4 nulla da dire quindi a questa bella squadra di oggi ho notato poi un fatto che ogni volta comunque che la Roma 2007 si è fatta sotto mi è sembrata insomma una Roma Visnova molto compatta in fase difensiva molto forte e poi parlavamo anche di Errol Quinte insomma avete questo buon portiere Vespa che sarà uno dei portieri del futuro anche degli azzuri uomo in più per la Roma Visnova Sebastiani nel pozzetto e con la superiorità numerica l'applauso a Simone Pappacena che torna al gol proprio nel giorno del suo rientro in Vasca 3 a 0 3 a 0 in questo secondo periodo e 7 a 2 per la Roma Visnova chiedo il commento a Gianluca Varrieri che ha imboscato dietro di noi io ogni tanto mi dimentico sì beh a parte contentissimo per il gol di Simone Pappacena che insomma dimostra una grande professionalità entrare in acqua nonostante i malanni fisici comunque una buona una buona Visnova i tre gol di Provenzali ottenuti tutti dallo stesso angolo tirando sempre dalla stessa posizione dimostra insomma il senso del gol del giocatore di Cufino per ora tutto quanto bene per la Visnova posso chiedere 30 secondi al presidente Ferraro Pasquale mi aiuti a passare no 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 bellissima con con la costruzione di un progetto che speriamo possa durare tre anni come era negli intenti con l'arrivo a Roma di un professionista di altissimo profilo morale prima che tecnico e quindi con la gioia di aver visto una squadra che si è compattata intorno a questo progetto con tanti giovani valorizzati e con un piccolo rammarico finale purtroppo quello di aver avuto i due giocatori più forti più rappresentativi fuori combattimento per le partite decisive e quindi probabilmente di uscire dai playoff così solo per grande sfortuna anche oggi stiamo vedendo una squadra con un bagaglio tecnico completo quindi sono felicissimo della stagione dispiaciuto di questa di questa piccola debacle finale ma ma non fa niente perché intanto stiamo già pensando al prossimo anno stiamo pensando al settore giovanile che quest'anno ci ha dato gioia e dolori ma e ho grandi progetti che sono quello del Waterpolo Lion Stagio di settembre di un altro torneo internazionale che stiamo organizzando con l'amico Mauro Birri il Waterpolo International Training and Tournament sempre ad agosto a fine d'agosto sempre ad Ostia e a una moltiplicarsi delle scuole pallannuoto che abbiamo iniziato l'anno scorso che quest'anno erano già tre l'anno prossimo saranno cinque per diffondere sempre di più l'amore per questo sport quindi un ringraziamento anche agli sponsor che sono stati vicini quest'anno alla Roma Visnova alla splendida e sapiente conduzione di queste trasmissioni televisive di Gianluca l'amica Bacascuale di Mattia a tutti quelli che hanno lavorato quest'anno e speriamo di rivederci l'anno prossimo con obiettivi ancora più ambiziosi allora naturalmente noi oggi in virtù dei risultati che ci sono stati consegnati dalla diretta concorrente della Roma Visnova cioè dal Telemar Palermo teoricamente la speranza è l'ultima a morire e dobbiamo ribadirlo più volte ma questa sera effettivamente noi ci potremo congedare con i nostri appuntamenti televisivi su Play Sport e su Silver TV che ci ha accompagnato fino a questo finale di stagione quindi ad oggi noi non possiamo immaginare dei nuovi appuntamenti della Roma Visnova in televisione visto che è la penultima di regular season e se la Roma Visnova non si qualifica per i playoff non può disputare l'eventuale partita in casa di una delle tre gare dei playoff promozione conseguentemente noi ad oggi potremo congedarci definitivamente per questa stagione sportiva succede che e lo abbiamo ribadito tutti siamo in cinque qui a ribadirlo più volte dall'apertura del collegamento che fino all'ultimo fino all'ultima giornata ma fino all'ultimo secondo ci sarà sempre modo di capire cosa potrà succedere e di sperarci soprattutto si fa vedere anche Davide Romiti il centro boa che mette a segno questa bella rete di potenza quasi di rabbia per scacciare gli spettri di una stagione di un finale di stagione un po' così bravo Davide prima rete per lui fino a questo momento decimo gol della partita 4 a 0 per Entorio fino a questo momento per la Roma Visnova non c'è storia in questo secondo periodo 1.50 al termine del secondo tempo ricordiamo le marcature tripletta di Provenzare le reti di Pappacena Cusmano Vitola Romiti e Martella fino a questo momento decidono le otto reti di marca giallorossa rimaniamo soltanto con le marcature di Sebastiani e di Tomasici invece per quello che riguarda la Roma 2007 che si affaccia proprio dalle parti di Lorenzo Vespa ancora Lorenzo che nega la rete questa volta di Santo e Roma Visnova che può attentare nuovamente l'affondo 1.20 al termine del secondo tempo poi si cambierà lato Martella lo scambio con Manzo poi viene servito Cusmano è proprio sulla linea dei 5 è marcato da Gabriele Letizzi ancora la Vis 5 secondi bisogna tirare chiamato Andrea Manzo che è incaricato ci prova con una bella palomba che si insacca alla sinistra alle spalle di Giulio Rossi bravo Andrea e Roma Visnova che se ne va a più 8 Pierluigi non c'è assolutamente partita complimenti insomma alla squadra di Bruno Cofino un derby è sempre un derby per cui noi amanti dello sport nel derby insomma pronostichiamo sempre una tripla perché tutto può succedere beh la squadra di Bruno Cofino veramente sta dimostrando di essere notevolmente superiore almeno in questa fase del campionato e voglio dire una cosa tra l'altro ci sono insomma quattro superiorità su una rispetto insomma agli avversari e netta supremazia su tutto fase difensiva fase d'attacco e poi i numeri nella 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 pallannuoto sono determinanti le statistiche sono determinanti peccato peccato che tu hai annunciato che potrebbe essere l'ultima telecronica della stagione peccato perché insomma vedo che è una squadra che poteva veramente ambire Gianluca la tua volevo sottolineare per esempio a parte il gol sì sì che segna il decimo gol della Visnova anche la prova di Lorenzo Vespa che insomma si dimostra sempre un elemento insostituibile tra i pali e dimostra ancora di più la convocazione che è stata fatta da coach Sandro Campagna per lo stage del settebello al polo natatorio di Ossia che ti dimostra insomma il valore di Lorenzo al di là insomma dei suoi grandissimi meriti convocazione che merita assolutamente Lorenzo tra l'altro è un elemento che ruota già da diverso tempo nella nazionale di Sandro Campagna c'è stato un momento effettivamente dove poi il CT gli ha preferito ha preferito altre convocazioni sta tornando prepotentemente nel giro della nazionale ricordiamo che Lorenzo Vespa tra l'altro ha disputato uno se non sbaglio qualche minuto anche in World League contro l'Olanda insomma si è sempre distinto molto molto bene l'estremo difensore giallorosso Pasquale un parziale di 6 a 0 per la Roma Visnova al 4 a 2 del primo quarto si va a affiancare questo 6 a 0 parziale che sembra destinato a rimanere tale che è anche un controfallo quindi l'arbitro sanziona una qualche irregolarità offensiva della Roma 2007 ci si avvia al cambio di campo sul 10 a 2 finisce il secondo tempo perentorio perentorio un 6 a 0 un tennistico risultato che ci porta con un aggregate sul 10 a 2 per la Roma Visnova si cambia lato a tra poco eccoci pronti per la seconda metà del match terzo tempo della sfida tra Roma Visnova e Roma 2007 valevole per la ventunesima giornata del campionato di serie a 2 maschile del girone sud Roma Visnova in calotta bianca che dopo il cambio lato attacca da sinistra verso destra 4 a 2 e 6 a 0 sono i due parziali che ci consegnano un aggregate ed un divario abbastanza consistente 10-2 per la squadra di Bruno Cufino avanti di 8 reti un secondo tempo soprattutto dove la squadra giallorossa di Bruno Cufino ha messo la quarta ed è andata a piazzare un perentorio 6 a 0 tanti marcatori tanti marcatori a parte la tripletta di Provenzale ricordiamoli Murro Papacena Cusmano Vitola Romiti e Martella siamo rimasti alle uniche due marcature per la Roma 2007 firmate da Sebastiani e Tomasic la Roma 2007 che soffruisce di questa azione proprio con lo stesso Tomasic e la bella girata di Sebastiani Campana di Campana Pasquale a te Campana ha segnato la rete anche anche egli dalla sua posizione istituzionale di centro boa è strano il destino di Campana veniva dalla serie B con Lanzio Lanzio sta lottando teoricamente per i playoff e Campana sta tornando in serie con la Roma 2007 le chicche di Pasquale di Mattia Vitola consegna la sfera ad Andrea Manzo Alessandro Rossi è sceso in basca subito in azione di disturbo sul numero 12 della Roma Visnova Murro adesso c'è un fallo in attacco c'è un fallo in attacco e allora Giulio Rossi è pronto a far ripartire la Roma 2007 ecco servito Gabriele Letizzi può avanzare il numero 13 serve per Di Santo dopo la rete messa a segno da Campana c'è un nuovo fallo in attacco allora la Roma Visnova adesso è il turno dei Leoni lungo il passaggio di Lorenzo Vespa per Alessandro Faiella Gabriele Letizzi prova il disturbo Faiella gran nuoto arpiona il pallone si riesce in qualche modo a liberare di Letizzi ad infilare Giulio Rossi 1 a 1 11 3 Faiella ha segnato al termine di una sorta di dribbling a danno del suo diretto cercatore quindi il 13 bianco del 13 nero ma vorrei focalizzare l'attenzione su Lorenzo Vespa che ha dimostrato nell'occasione non solo di saper parare ma anche di avere un goniometro tra le mani tale e tanta la sua precisione per il lancio di Faiella 11 3 dunque 14 reti fino a questo momento Faiella mette a segno la sua prima rete dobbiamo ricordare che Alessandro Faiella è il top scorer della Roma Visnova di questa stagione seguito a ruota dalle 26 reti di Simone Pappacena Simone Pappacena che poteva incrementare il suo bottino purtroppo è venuto a mancare proprio in queste quattro giornate non voglio essere ripetitivo Pasquale però no la media realizzativa di Simone comunque non è bassa ha tenuto conto delle partite che ha dovuto saltare per infortunio e poi Simone non è un giocatore dedito esclusivamente alla realizzazione come del resto si richiede ad ogni atleta moderno c'è un'espulsione a carico degli uomini in calottina nera vedo un po' di confusione perché sembrava uno a carico del 10 uno a carico del 9 ma sembra che sia il numero 10 Alessandro Rossi che deve abbandonare la piscina per 20 secondi sì Alessandro Rossi Pappacena 2 a 1 12-3 seconda rete per Simone Pappacena quindicesima del match giro di voci Pierluigi Grande beh io metto in rilievo anche un altro un altro fattore una partita molto corretta nonostante la palannota sia uno degli sport più duri come sappiamo oggi in un derby qui in questo bel teatro del CONI al Foritalico un derby anche corretto soprattutto da parte della Roma-Vissenova ha dato una superiorità agli avversari ha regalato contro comunque cinque superiorità agli avversari bel derby anche sotto l'aspetto della correttezza Gianluca Guarnieri 12-3 punteggio piuttosto pesante severo però sembra che comunque la Visnova in questa occasione ha ritrovato la brillantezza che ne aveva contraddistinto il momento più bello quello delle sette vittorie consecutive che erano otto risultati utili consecutivi comunque sia un finale di campionato da questo punto di vista per oggi bello per la Visnova sperando sempre insomma che si possa aggiungere a i tanti sospirati play-off Gianluca è vero è vero tra l'altro è un campionato che va onorato è proprio abbraccio di quello che diceva Gianluca Guarnieri Pierluigi la Roma dell'altro versante a questo punto è spacciata sì con questo risultato la Roma 2007 è matematicamente retrocessa si rende inutile anche la partita di sabato prossimo che dovrebbe essere tutta la pleonastica perché non si toglierebbe la Roma dall'ultimo posto non si schioterebbe il Cittavecchia dalla terza posizione che nei play-off proletterebbe la scuola di Renica contro la seconda del raggruppamento nord che ora come ora dovrebbe essere la Paranudo Trieste eh già cominciano ad arrivare i primi verdetti anche per questo girone sud per questa serie a due d'altro canto voglio dire siamo alla penultima giornata ci mancherebbe che che non arrivino Vito l'ha disturbato da Tomasic ci riprova il numero 7 Salernitano pallone che si spegne a lato alla destra della porta difesa da Giulio Rossi 4 minuti e 14 poi si esaurirà anche questo terzo periodo 12-3 per la Roma Visnova 4-2 6-0 2-1 fino a questo momento per i giallorossi di Bruno Cuffino e c'è un rigore sì c'è un rigore un fallo che dovrebbe sì è Cusmano sì è Cusmano hai visto forse meglio te Pasquale cosa è successo a detta del due arbitrale Cusmano avrebbe trattenuto il diretto avversario nell'area dei 5 metri e questo tipo di interventi viene inevitabilmente sanzionato con un tiro di rigore che si appresta a trasformare purtroppo il numero non è legibile da questa posizione credo che sia Campana o il 6 all'8 il 6 e l'8 sono disegnati in maniera molto simile forse è Rella capito qua ragazzi e qui dobbiamo metterci gli occhiali pure io non ci riesco a vedere tanto bene credo sia Rella credo sia Rella ok Rella ok va bene quarto gol della Roma 2007 proprio in corrispondenza del quarto minuto di questo terzo periodo dunque Rella che mette a segno la sedicesima rete 2 a 2 fino a questo momento in questo terzo tempo diventiamo 6 se chiedo a Letizia Castellani qual è la situazione delle superiorità numeriche tra poco magari potrà dircelo visto che è proprio vicino alla nostra postazione così eccole puntuale Letizia eh sì 0 su 1 più rigore Roma 2007 0 su 1 più rigore la Roma 2007 4 su 5 che è assolutamente una buona media 80% di tutto rispetto in effetti è mancata solo la prima superiorità quella per l'espulsione di Di Santo a parte quella la Visnova la realizzate tutte grazie anche alla nostra Letizia Castellani possiamo disturbare il presidente Ferraro la tua un giro di voci sulle prossime eh semifinali Under 20 quest'anno abbiamo una squadra costruita su molti ragazzi che giocano in Serie A alcuni giovani da inserire anche un 98 è stato convocato per le finali nazionali Under 20 e e anche qui abbiamo sicuramente la prospettiva di poter lavorare per il futuro purtroppo siamo privi di un giocatore in un ruolo importante centro boa perché per motivi che non dipendono dalla nostra volontà alcuni ragazzi che erano cresciuti con noi quest'anno non sono stati come si dice messi in condizione di continuare la loro esperienza ma l'ambiente romano è fatto di di queste piccole cose abbiamo assistito poco fa se dovessi usare un'analogia calcistica ad un ripiego difensivo di Cusmano che è riuscito a negare la rete a Tomasic adesso si è riproposto in fase offensiva quindi sta anche sfatando un po' il ruolo il loro comune che vuole il mancino come un ruolo finalizzato più all'offesa che alla difesa il mancino moderno cura ambito gli aspetti scende Letizzi disturbato proprio dallo stesso Cusmano il tiro dalla distanza di Tomasic tiro d'angolo per la Roma 2007 con Lorenzo Vespa che forse ha fatto la smorfia di dolore speriamo di aver interpretato male dopo l'intervento dell'estremo difensore giallorosso la tua Pierluigi Grande anche perché tra l'altro è il migliore in partita insomma nonostante questo divario divario Vespa è stato uno tra i migliori in piscina io posso dire una cosa voglio fare i complimenti anche al professor Cufino perché nonostante tutto è un derby nonostante tutto la Roma 2007 si giocava un passaggio importante perché sta lottando per non retrocedere per cui sta in un momento determinante perdendo oggi dicevate prima insomma è spacciata beh l'atteggiamento in piscina della Roma Vesnova evidenza sicuramente un grande lavoro anche sotto l'aspetto psicologico dovrebbe essere io l'ho conosciuto in occasione di alcune puntate televisive registrate insieme è uno molto attento alla fase psicologica alla fase mentale e questo a noi ci piace voglio ricordare visto che ne stiamo approfittando delle opinioni tecniche di Pierluigi Grande che Pierluigi Grande è sul circuito di Gold TV con un magazine che ormai si rinnova puntualmente annualmente con grande successo che è Passione Sport che già in tanti seguiranno gli appassionati di pallannuoto ma non solo avranno avuto modo di vedere le tue tante interviste realizzate da Latina in poi intorno non solo come dicevo poc'anzi agli ambienti pallannuotistici ma un pochino a tutto lo sport forse lo sport rimane sempre uno di quei momenti che si ripetono nel tempo per noi da prima appassionati da aspiranti campioni poi a commentatori raccontatori di magici momenti magici momenti di sport e si dall'86 non ho saltato una puntata con Passione Sport punto tv e tu sei insomma stato uno degli attori in diverse puntate in cui abbiamo parlato di pallannuoto insieme anche all'amico Pasquale Di Mattia e mi ha fatto piacere come mi ha fatto piacere insomma e ringrazio ufficialmente anche l'avvocato Marco Ferraro dell'appoggio spontaneo nei confronti del progetto del libro i codici della vittoria si speriamo di riuscirne a parlare però voglio riuscirne a parlare entro la fine di questa partita perché voglio ribadirlo non abbiamo avuto modo di parlare più volte inossidabile Pierluigi Grande la grande famiglia di Gol TV voglio chiedere però voglio interpellare anche una delle prime firme di Swim Beats ricordiamolo Gianluca Guernieri Gianluca sì parlando della stagione della visnova io penso che questa possa anche essere un vero e proprio trampolino per il futuro perché una squadra giovane ricca di uomini interessanti di elementi interessanti con un allenatore bravo come Bruno Cufino e io credo che il discorso parla nuoto a Roma conterà ancora parecchio sulla visnova anche per la prossima stagione per un movimento che merita e merita questo sport che merita ancora più seguito perché è uno sport importante che poi per la città di Roma ha sempre significato qualcosa di di prezioso e di importante scusa la ripetizione in questo caso la rete della Roma 2007 della Roma visnova chiedo scusa ancora Davide Romiti che mette a segno la sua doppietta 40 secondi dal termine del terzo tempo dunque visse che se ne va sul 3 a 2 diciassettesima rete del match è il massimo vantaggio perché sono 9 reti addirittura Pasquale 9 reti di scarto nel frattempo si è verificata anche l'espulsione credo per proteste definitiva con sostituzione del numero 7 in calottina nera di Santo qui ha fatto seguito un'espulsione temporanea di Letizzi ma non è stata sfruttata dalla Roma visnova che è comunque benvenuta la tredicesima rete per l'appunto con Romiti 4 su 6 l'uomo in situazione di uomo in più per la Roma visnova Alessandro Rossi Tomasic la conclusione vincente di Sebastiani doppietta per Sebastiani dobbiamo segnalare anche che Antonio Di Santo è uscito per limite di falli qualche istante fa è Di Santo è il numero 7 è definitiva è definitiva sì ah per proteste l'arbitro Bianchi ha posto in essere un gesto inequivocabile quello che rotando i palmi delle mani come a dire espulsione definitiva con sostituzione è una sanzione che viene combinata lo dico a beneficio di chi è meno avverso a questo sport è una sanzione che viene combinata solitamente per proteste reiterate ecco infatti non capivamo poi quel momento in cui il gioco era stato fermato e aveva fatto quel gesto 4 secondi siamo veramente al termine di questo terzo tempo seguiremo gli 8 minuti gli ultimi 8 minuti della partita tra Roma-Visnova e Roma 2007 tra poco 13-5 è al momento il risultato che ci consegna il tabellone del Foro Italico eccoci tornati collegati per seguire questi ultimi 8 minuti di gioco della sfida tra Roma-Visnova e Roma 2007 fino a questo momento la squadra di Bruno Cuffino sta dilagando 8 le reti di distacco tra il 7 Romano in calotta bianca la squadra dei Leoni su quella guidata per questa circostanza da Maurizio Gatto ricordiamo Simone Mercadanti il tecnico in carica è squalificato per un turno quindi voglio siccome l'ho visto prima voglio immaginare che sia sugli spalti a seguire la squadra c'è ah ecco è qui vogliamo provare a chiamarlo un attimo Pasquale ti lascio la parola a te Simone inizia l'ultima frazione 13-5 gara saldamente in mano alla Roma-Visnova e con l'occasione vorrei rivolgere un pensiero al mancino della canottina di Napoli Tomis dal primo Razz colpito da un lutto familiare penso che gli stiamo tutti quanti vicino adesso è Cusmano che imposta l'azione per la Roma-Visnova che cerca la quattordicesima realizzazione si realizza la quattordicesima mi correggo è Provenzale Provenzale quindi per lui è una quaterna ecco Gianluca poker di Provenzale Simone non se la sente adesso non se la sente di venire a parlare ci ha provato doveroso 1-0 per la Vis è Provenzale che insomma oggi giornata giornata importante per lui quattro reti top scorer di questa partita sì finora le doppiette in casa in casa dei Leoni sono state messe a segno da Romiti e da Pappacena quattro le reti di Enrico Provenzale le marcature singole sono quelle di Murro Cusmano Martella e Fagliella con Alessandro Serrentino che è sceso in vasca sostituendo Lorenzo Vespa altro giovane importantissimo che nato dal vivaio giallo-rosso è già stato lanciato in orbita serie 2 ma è un elemento che ha grandi prospettive Alessandro abbiamo avuto modo di seguirlo anche in altre occasioni già della prima squadra viene dal dalla rappresentativa Lievi ha scalato prepotentemente le posizioni eh Gabriele Letizzi perde il tempo non si accorge del pallone c'è Claudio Innocenzi che riesce a ripiegare va su di lui Provenzale che va in marcatura su Tulli vediamo se si riesce a disporre il semicerchio della Roma 2007 il bel passaggio di Letizzi all'indirizzo di Tomasic e l'intervento di Alessandro Serrentino che avevamo menzionato proprio pochi istanti fa Pasquale in poco tempo ha visto delle belle cose il lancio di Tomasic che ha visto Letizzi libero anche se poi la contofuga non è andata a buon fine la conclusione di Tomasic che sebbene marcato è riuscito a vedere la porta ma Serrentino gli ha negato la rete nessuna rete vista ma tante belle cose dal punto di vista tecnico in pochi secondi pallone catturato da Davide Romiti consegnato proprio a Serrentino per far ripartire questa nuova offensiva della Roma Visnova Innocenzi sulla sua c'è Provenzale che riceve Faiella 14 secondi per portare a termine questa azione la Roma Visnova che prosegue ancora conquista il pallone Giulio Rossi nulla di fatto due minuti e mezzo già esauriti e la Roma 2007 che si porta avanti questa volta ci prova dalla destra il dialogo tra Sebastiani e Tulli avanza proprio il numero due sette secondi per la Roma 2007 attenzione perché può provarci proprio Sebastiani bravo Alessandro Serrentino bravo Alessandro Serrentino continua a mantenere la porta inviolata un sostituto degno ed affidabile per Lorenzo Vespa adesso ha servito Provenzale che nella sua posizione tradizionale di organizzatore di gioco ha la ricerca di Martella che a sua volta imposta l'azione Pierluigi Grande e Gianluca Guarnieri sì io continuo a dire insomma che non c'è assolutamente partito ormai è chiarissima quale sarà quale sarà il finale e voglio voglio dire che ho visto Innocenzi da quando è entrato insomma è un giocatore che Claudio conosco bene per averlo seguito anche in altre situazioni anche quando ha vestito la gallottina della latina è un giocatore un punto di riferimento essenziale importantissimo per cui insomma confermo quello che avete detto voi sicuramente quel momento della sua assenza è stato determinante per per un finale purtroppo che non sta rispettando quelli che sono i veri valori della Roma Viznova Gianluca allora con te mi voglio soffermare qualche secondo in più perché da attento conoscitore della realtà romana della palla a nuoto ecco volevo condividere una riflessione con te il fatto che la Roma 2007 in qualche modo al di là della rivalità sportiva in basca è sempre un peccato veder retrocedere una realtà romana che in qualche modo ha arricchito il parco delle squadre nella serie A ed è un dispiacere veder lasciare insomma in qualche modo la serie A dalla Roma 2007 assolutamente d'accordo perché comunque la realtà romana perde un pezzo importante del movimento pallanuotistico proprio dell'URB capitolino io mi auguro che insomma si riesca che la stessa 2007 possa tornare più presto possibile in A2 perché lo merita e per rinforzare proprio un panorama sportivo di questa disciplina è importante come ho detto prima è veramente importante la pallanuota a Roma proprio per la sua storia per tutto il suo passato il background che contiene ecco perché è sempre un dispiacere vedere una squadra di Roma che abbandona una serie importante come la A2 e mi auguro che questo possa essere solamente un momento un momento temporale che si possa concludere rapidamente il nostro in bocca al lupo va alla Roma 2007 sicuramente al di là della sana rivalità tra le due squadre di di marca giallorossa ci sono state tante partite in occasione di tornei in occasione del del campionato già dalla scorsa stagione che hanno sicuramente vivacizzato ecco vivacizzato Pasquale una una realtà come quella romana che soffre che deve scontare sempre una serie di problemi di cui adesso non sto a parlarti sempre perché tanto diciamo sempre le stesse cose però volevo una tua riflessione sulla retrocessione della Roma 2007 ma intanto questo è un derby che l'anno prossimo non vedremo in sede di pronostico non credo fosse ipotizzabile pensare a una retrocessione della Roma 2007 che subisce un'altra rete con Romiti tra l'altro 2.49 però tanto è del resto la Roma 2007 nonostante la prima partita vinta in casa contro la Cicastello che ha fatto pensare a ben altro campionato ha concluso l'andata con 4 punti e quando concludi l'andata con uno score così basso poi è difficile riprendersi perché poi devi recuperare tu e sperare che tutto vada male agli altri ripeto è un derby che non vedremo l'anno prossimo e chiede a curarsi che per la città di Roma che la Roma di 2007 si riprenda altrimenti ripeto senza fare basandoci su ricordi storici tante squadre a Roma sono durate lo spazio di un mattino sono iniziate e sono finite dopo poco cambiando nome cambiando cambiando piccoli dettagli ma poi sono sparite l'importante è che a Roma questo fenomeno si areni è già è già 2.32 al termine 16.5 più 11 la vis 16.5 per la squadra di Bruno Cuffino e sul nostro taccuino bravissimo Alessandro Serrentino che si distingue ancora con una deviazione tra l'altro che era stata di spiezio non era per niente semplice non era per niente semplice allora anche Romiti cala il poker quindi raggiunge in una sfida a distanza tutta in casa Enrico Provenzale Romiti sugli scudi in questa seconda parte del match la rete della Roma 2007 messa a segno da Alessandro Rossi a 2.10 dal termine 16.6 la metto un po' sulla statistica dopo due reti di un laureato in fisioterapia